E' stata definita una delle capitali della catastrofe bancaria chiusi della Verna, uno dei comuni maggiormente colpiti dalle conseguenze del decreto salvabanche. Sono infatti circa 170 cittadini che il 22 novembre scorso, solamente in una manciata di minuti, hanno visto andare in fumo anni di risparmi. Ed adesso, dopo una prima fase di ascolto, l'amministrazione comunale aveva infatti istituito uno sportello gratuito per verificare se c'erano le condizioni per proseguire per vie legali contro la vecchia banca Etruria, si passa al secondo step. Marco Manneschi, l'avvocato che ha seguito in queste settimane i risparmiatori, ha consegnato infatti il primo gruppo di querele. I presupposti per presentare una querela sono solo quelli dove le informazioni non rispondono alla realtà e dove si capisce che c'è stato un intervento correttivo del MIFID in modo tale che questo intervento ha reso possibile l'erogazione, l'operazione di investimento. Mentre le persone intendevano semplicemente collocare i loro risparmi, non intendevano fare speculazione né far crescere il capitale consegnato dalla banca, intendevano difendere il proprio piccolo capitale frutto di tante fatiche. E chi sono le persone che si sono rivolte a lei? Sono prevalentemente famiglie, operai, pensionati, coltivatori, persone che per mettere da parte 100 euro faticano tanto. Sono persone semplici, persone che non hanno prevalenza a un alto grado di istruzione, persone che si sono fidate completamente, ciecamente della banca, dei suoi rappresentanti e quando hanno capito di cosa si trattava sono rimaste veramente male perché si sono sentite prese in giro. L'ipozio di reato è truffa, è truffa perché appunto sono stati compiuti artifici e raggiri.